Siamo sul Gran Sasso d'Italia, come scritto sul blog questa mattina ho deciso di fare il corno grande passando per il calderone con la tavola da snowboard, è una mia prima assoluta, non l'ho mai fatta, con me in compagnia sia Giulia. Siamo partiti dall'albergo di Prato di Tio che sta laggiù in basso alle 4 e mezza circa oggi pomeriggio. Abbiamo fatto questi 600 metri di dislivello e a impianti chiusi chiaramente ce li siamo fatti a piedi. Adesso siamo qua a 2052 metri nella zona che si chiama Madonnina, punto di partenza per le escursioni sul Gran Sasso, si aspetta la salita del Franchetti, il rifugio dove passeremo la notte, per poi salire sulla conca degli invalidi, il ghiacciaio del calderone e domani mattina verso le 10 e mezza 11 dalla vetta rifarmela tutta fino giù in fondo a Pratitio. Il tempo è bello, bellissimo, credo che il rifugio non sarebbe in tanti, si aspetta un'altra retta di camminata. A dopo!